ragazzi buongiorno buongiorno a voi allora finalmente siamo arrivati in questo video della macchina che prosegue ovviamente sto andando sto messo al traffico non approfittavo per registrare adesso la intro sto andando appunto dal mio carissimo amico ottavio per andare finalmente dico finalmente a montare quelli che sono i scarichi e tutti un po gli accessori della mia auto quindi raga sto andando lì ho preso anche a questi maledetti 12 cornetti uno meglio da un altro lasciamo perdere ragazzi manco io prego ci mancherebbe assolutamente buongiorno 12 cornetti non posso mangiare nulla che posso solamente bere quindi c'è un odore che dentro la macchina che è incredibile sto andando appunto dal meccanico dal mio amico ottavio l'auto racing e stiamo andando a fare questi lavoretti quindi oggi vedrete un po quello che è il montaggio appunto l'assemblaggio di tutti i componenti dell'auto vediamo se oggi sarà finita così poi vedremo un po tutto il restante ragazzi e prepariamoci perché se sentimo male raga se sentimo male goditivi sto video è viva è viva i bambini qui ed eccoci qua siamo tornati il proprietario della banda ragazzi non è la mia è la sua la banda ok è la società della società della società dell'auto racing altre macchine altre macchine allora cosa è arrivato oggi qualcosa di più piccante no basta piccante qualcosa di più succulenta cosa è arrivato allora diciamo che è arrivata la nostra turbina la nostra turbina con girante in avion al con colore non ho scelto da lui ma scelto da me sì ma ha detto pure pochi di tutti voi che te pare verde ha fatto ma cazzo di fare quindi vabbè a fine ha fatto lui alla faccio vedere la turbina può prenderlo in mano e poi prenderà la prendiamo in mano la turbina fai ecco qua però facciamo vedere adesso è la c'è la luce tante volte non so se si vede facciamo un po di luce mamma mia questa professionalità ma tanto è bella come il marchio della mia società ovviamente ah e quindi c'è la sta sempre un qualcosa di tuo dentro perché se non va bene grande ma non è contento guarda quindi oggi che facciamo oggi andiamo installare la turbina sotto la macchina poi andiamo installare lo scarico completo che abbiamo fatto e poi e poi rimappiamo un'altra volta poi facciamo un'altra volta la mappatura e poi sarà una macchina fuori oddio mica tanto tu un po' mangiare io ti stai messo pure te quindi sarà una fenda il culo tocca solo lavorare oggi lavorare e basta quindi ragazzi adesso io farò un po' di represe mentre andiamo a installare la turbina ok perfetto iniziamo vai si è carico insomma insomma Grazie a tutti 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 Siamo pronti 1, 2, 3 Eh beh La differenza c'è Per il momento Per il momento? Per il momento Mi sono soddisfatto Porco dici Vabbè fammi da pure a me tu Sgasello Dai 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 Cazzo Questa è la mia nuova panda Ok? Fammi provare almeno Facci sentire un attimino Facci sentire Vado? Ma è un po' che io la sto sentita Ma è la mia? Ma è la mia? Mamma mia Mamma mia Soddisfatto o rimborzato? Soddisfatto Qua con queste sgasate Toccano mettere una piatta di benzina Facci sentire un attimino Fa vedere Fa vedere Il rosso fisso C'è qualcosa che non vale Mi piace Ottimo Grande Ottavio Prego E dai un assaggio Giusto? Assolutamente Sarà tutta bella Completata Lavata Pulita Sistemata Direi che può passare Come li vuoi salutare questi amici? Li salutiamo con una bella sgasata Vai aspetta La metto proprio vicino Vai Abbiamo concluso questo sound Adesso facciamo la chiusura Allora ragazzi Niente Il video è terminato Oggi vi ho fatto vedere un pochettino Il montaggio dei scarichi Della turbina Di quello che è Ma ancora c'è da fare Qualcosina Qualche ritocchino finale Diciamo Finale sì Doveva andare ancora a paraurti avanti Paraurti comunque Però il suono Il suono se ti piace Vedete così che cazzo Vedi così che cazzo Lascio il Lamborghini Lascio via No ragazzi Sono veramente soddisfattissimo Allora Poi troverete un video finale Dell'auto Una presentazione molto più bella Che troveremo insieme Sempre ovviamente con Ottavio Che poi ci andrà a specificare Un po' più di dettagli Assolutamente Diciamo delle cose Un po' più tecniche Perché io non ho capito il caso Come mi ha detto Niente raga Vi mandiamo un salutone Grazie mille a Ottavio Allo Racing Grazie Grazie a tutti E niente Venite a trovare Se volete fare qualche cosa Vi aspettiamo Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video